La curva epidemiologica in Abruzzo torna a salire in modo più marcato, come sono tornati a salire positivi ai ricoveri, ma fortunatamente in area non critica. A spingere i contagi sono le sottovarianti Omicron 4 e 5, a salire anche l'incidenza in Abruzzo che arriva a 326 casi ogni 100.000 abitanti. In pratica, per i dati, c'è un positivo ogni sei tamponi analizzati. Per quanto riguarda le singole città, nelle ultime ore è stata l'Aquila la più colpita, seguita da Pescara, Bezzano, Vasto e Teramo. Il tasso di occupazione dei posti letto covid è sotto la soglia di allarme, però con l'alentamento delle misure restrittive si registra anche una fase di stallo per la campagna vaccinale, soprattutto per le dosi booster. Le quarte dosi registrano numeri di molto inferiori alla media nazionale. Il virus però sta circolando lo stesso nonostante il caldo, complice alla movida e il virus dove non c'è il ricambio d'aria si trasmette più facilmente. L'obbligo di mascherina rimosso quasi ovunque fa sì che siano davvero in pochi quelli che la portano ancora, ma il consiglio degli esperti è sempre lo stesso, quello di tenerla laddove ci siano situazioni di potenziale rischio. A livello provinciale c'è un aumento del 46% dei casi rispetto alla settimana precedente, come spiega il dottore Enrico Gianzante. Un deciso aumento c'è effettivamente. L'aumento è legato alle sottovarianti Omicron 4 e Omicron 5 che hanno un'elevata diffusività. Per fortuna, come avete detto, non ci sono però aumenti di ricoveri oppure addirittura nelle rianimazioni. Posso dire per esempio che in ambito provinciale attualmente abbiamo 44 persone ricoverate in ospedale come reparti Covid e nessuno, per fortuna, in terapia intensiva. Certo, rispetto all'anno scorso la situazione è più complessa, però ce l'aspettavamo in qualche modo. L'importante però è che non ci siano casi gravi. Ecco, a livello provinciale però rispetto alla settimana scorsa e alle settimane precedenti che c'era stata una discesa c'è un rialzo abbastanza importante. Sì, c'è un rialzo importante. Fino alla settimana scorsa eravamo in continuo calo. Invece questa settimana abbiamo avuto, rispetto alla precedente, un aumento del 46% dei casi, che è abbastanza consistente. Abbiamo più di 1.600 persone in isolamento domiciliare, ma ripeto, per fortuna non abbiamo avuto aumento di ricoveri, anzi diminuzione, nessuno in terapia intensiva.